Il Trentino c'è, c'era nel Medici, c'è stato il terremoto dell'Aquila, c'è stato nel Friuli e c'è anche per il popolo sardo e questo è una cosa importante. Quando il Trentino viene chiamato, il Trentino risponde. Io qui rappresento Amont, le sette state più importanti online del Trentino, che si sono messi a disposizione quando l'amico Stefano Mocida ci ha chiamato, abbiamo fatto il nostro dovere, il nostro dovere di giornalisti, di editori e di testate. A questo proposito lancio un appello, in questo momento credo tra un po' pariranno dietro, gli artisti Michela Pedron, che è qui presente stasera in Ario Fontana, hanno regalato ad Amont, all'associazione media online Trentini, tre opere, tre opere che sono state messe all'asta due giorni fa, valore circa 8-900 euro l'una, base d'asta di partenza 200 euro. Credo che se a qualcuno potessero interessare, e mi auguro davvero di sì naturalmente Sonia, può mettersi in contatto con Stefano Mocida e per trattare il prezzo su via, diciamo, anche questi soldi naturalmente andranno in beneficenza. Io vi saluto, ringrazio Sonia, ringrazio Stefano e tanti auguri a tutti. Sappiamo che hai dato molto spazio una serata su web e in questo ovviamente vi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie.